Altri commenti in questo lunedì, consueti appuntamenti al lunedì con Federica Lodi, il commento anche al campionato di volley, Federica mi hai raggiunto in studio. Ciao Cristiana, che piacere ritrovarti qui. Anche per me, dopo le prime dieci giornate, cosa possiamo commentare e dire? Non sei sola? No, non sono sola, ti ho portato un ospite molto prestigioso, grande protagonista in nazionale, grande protagonista anche nella nostra Superlega. Ah, mi avete spoilerato così. Ciao Daniele Lavia, ben trovato! Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie. Allora Cristiana, per prima cosa dobbiamo raccontare immediatamente che abbiamo strappato Daniele ai festeggiamenti della squadra, perché c'è una merenda, aperitivo tra qualche istante, quindi l'abbiamo un po' rapito. Grazie Daniele. Strappato agli allenamenti era troppo semplice, che ci vuole a farsi strappare dall'allenamento. No, l'abbiamo strappato alla festa. Alla festa e al brindisi. Sì, sì, abbiamo un aperitivo con la squadra, i tifosi, la società, non sono veri e propri festeggiamenti, un po' per lavori di Natale, è un buon anno ecco. Vabbè, bisogna tenersi un po' sobri, malgrado quel primo posto in classifica che avete conquistato ieri dopo il successo su Perugia. È un duello pazzesco in questa stagione fra queste due squadre, state continuando a portare avanti queste sfide continue e ieri avete fatto bene voi, Daniele. È sempre stato un duello con Perugia, con Modena, con Civitanova, ogni anno, ma anche con altre squadre, però ogni anno si ripete. Cioè, una volta vinciamo noi, una volta vincono loro. Quest'anno è andata così, siamo felici di questo primo posto, stiamo lavorando bene e si vede dei risultati. Vede dei risultati, siamo contenti, abbiamo cambiato un po' di cose, tra cui anche l'allenatore, stiamo spingendo e siamo contenti. Ecco, bravo, hai citato l'allenatore, certo, avete un nuovo allenatore, come sta procedendo il lavoro? Insomma, è chiaro che la classifica parla, però vorrei capire anche da te proprio com'è questa nuova avventura. È diverso, come ogni allenatore, ognuno ha le proprie caratteristiche. Ci troviamo bene, è una persona molto aperta, che vuole fare tanto allenamento. E quindi bisogna un po' dosare anche le energie, perché quest'estate è stata lunga, questo campionato, tutta questa stagione col club sarà ancora più lunga. Quindi bisogna un po' tenerlo a freno ogni tanto, però oltre a questo ci troviamo bene. È veramente una persona che ha le idee chiare, che ha messo subito la sua impronta sulla squadra. Siamo una squadra determinata, che ha voglia di fare, ha il giusto carattere e si vede, secondo me, anche dalle partite. Daniele, tra l'altro, parlando di allenatori, chiaramente non ero la prima volta, ma ieri avete incontrato di nuovo Lorenzetti, che sulla panchina di Trento ha fatto un lungo percorso. Io ti chiedo sempre anche che effetto ti fa e vi fa rincrociare una persona che effettivamente ha fatto tanta strada con voi. Beh, è emozionante. Devo essere sincero, è stato bello rivedere Angelo dopo tanto tempo. Abbiamo condiviso tante vittorie, ma anche molte sconfitte. Abbiamo chiuso questo percorso insieme a lui con la vittoria dello Scudetto, abbiamo lui chiuso in bellezza, con la ciliegina sulla torta e quindi è bello ricorderlo così. Manca ancora una partita per capire poi, Cristiana, come sarà anche la composizione della Coppa Italia, no? Con le prime otto squadre che poi andranno ad incontrarsi. Il lago della bilancia è proprio Trento, che affronterà Padova, perché c'è un posto che rimane. Come ti metti quella giornata? Santo Stefano, giusto? Tu hai Boxing Day da una parte, con la Premier League, da seguire la Lega di Serie A. È una giornata straordinaria di sport. Sì, attenta come rispondi. Eh? Cosa? Attenta come rispondi. Sono molto attenta, hai ragione. Daniele, bisogna capire anche effettivamente quale sarà la vostra avversaria, se manterrete il primo posto, perché poi c'è Civitanova a Verona e Padova a Trento. Sicuramente per gli accoppiamenti alla Coppa Italia questa giornata è fondamentale, sia per decidere il primo che l'ottavo posto. L'importante è essere rientrato tra le prime quattro, così riusciamo a giocarcela in casa, con il nostro pubblico, con i nostri tifosi, nel nostro campo. Ecco, quindi si vedrà e il 26 saremo attaccati per vedere cosa succede. Oh, Daniele, abbiamo incontrato Fefe De Giorgi qualche settimana fa, il quale ha detto, ci ha confessato di non disturbarvi troppo, non vuole stressarvi in questo periodo, dopo la lunga estate a cui hai fatto riferimento. È vero che lo sentite abbastanza poco oppure ha fatto un'eccezione per te? In che senso, scusami? No, no, perché in questo momento lui mi ha detto, guarda, no, al momento non voglio farmi vedere troppo, io tengo tutto sotto controllo, guardo le partite, mando i miei osservatori, però io cerco di non stressare i ragazzi, di non chiamarli. L'hai sentito, no? No, questa prima parte non ci siamo sentiti, ho visto lo staff durante la Supercoppa lì a Biella, però lui personalmente non l'ho ancora sentito, perché quest'estate cinque mesi sono stati lunghi, ogni giorno insieme a tutti quanti è stata lunga, però sicuramente come ha fatto anche l'anno scorso, ci verrà a trovare, ti farà sentire anche lui. Sì, sì, Cristiana l'ha detto subito, io adesso per il momento lascio stare, poi prima o poi arriverò e mi farò sentire come, e anche perché poi insomma c'è una grande annata, è vero che poi insomma è chiaro che bisogna andare un po' per gradi e con grande calma, però non possiamo dimenticare che quello che sta per cominciare è l'anno dell'Olimpiade, grande obiettivo. Daniele io mi fermo qui, non ti chiedo altro perché so che effettivamente... Io ti ringrazio Daniele, in bocca al lupo per il resto della stagione e soprattutto buoni festeggiamenti, buon brindisi ecco. Grazie a voi, buon Natale, buon anno a tutti quanti. Grazie Daniele Lavia per essere stato con noi.